In questo caso, adesso l'Olympia prova ad alzare la pressione difensiva, ruba con Simon che va a dipositare, anzi va a schiacciare il più 15 che il coach è il massimo fantastico. Bene Milano con quel tiro a tre, poi con il rubazzo catturato qui, dietro la testa. Oh Simon, assisti alla sanata. Deve provare ad attaccare, Simon prova a tirare da 10 metri e pari da! Oh! Oh! Krunoslav Simon! Oh! Che canestro! In americana si chiama running one-hander, correndo una mano, veramente un canestro devastante. Il tiro di Raffaele, anzi no, il passaggio per Simon che con un gancio, anni 60, con quella mano sinistra, fa quello che vuole! Nella stessa situazione in cui ha vinto gara 6 a Venezia, affidandosi a Krunoslav Simon che porta dentro De Nicolao, si gira, Simon con la mano sinistra per il più 4! Mamma mia, una canestra di importanza, è proprio impossibile definire quanto è importante! Sì! 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 Sì!